Una splendida cornice, quella del Castello San Giorgio a Castelli d'Usa, per presentarvi il primo appuntamento del pranzo con Letizia. Una rubrica gastronomica sulla ristorazione siciliana di qualità. Troverete le nostre videoricette sul blog Torre del Gusto, il blog del Vivere Sano. Vi aspettiamo in questa baia con i nostri ospiti importanti. Grazie.